Il paese come l'Italia che disporta per un valore di circa 40 miliardi di euro di made in Italy nel mondo. Godo come ministro dell'Italia e l'italiano di una reputazione enorme, ottima, grazie alle nostre condizioni. Il paese come l'Italia che disporta per un valore di circa 40 miliardi di euro di made in Italy nel mondo. Un paese che è sempre stato aperto. So, so che non volete che sia così, ma ho nostalgia di casa. Va bene, grazie.